Cari spettatori. Oggi affronteremo le crescenti voci riguardo a una possibile relazione tra Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e Lucrezia Lando. Queste voci sono diventate sempre più insistenti. E sembra che alcune testimonianze abbiano catturato momenti di intimità tra i due. Scopriamo i dettagli di questa presunta relazione. La domanda su una possibile relazione tra Lorenzo Tano e Lucrezia Lando è emersa in rete e ha iniziato a suscitare grande interesse tra i fan. Rossella R ha reso pubbliche alcune informazioni. Affermando di averli visti insieme in un ristorante durante una serata e di averli osservati mentre si tenevano per mano e si scambiavano baci appassionati. Ha anche notato che Lorenzo sembrava baciare Lucrezia sui segni causati dal ballo per alleviare il dolore. Simona Izzo ha confermato questa testimonianza. Affermando di averli visti baciarsi in pubblico e di aver notato una connessione speciale tra i due. Ha aggiunto che, secondo lei, Lorenzo e Lucrezia sono già una coppia e che non si tratta di pettegolezzi, ma di una verità. Questa storia d'amore sembrerebbe essere già in corso. Ed è stata suggerita anche in diretta televisiva. Al momento, né Lorenzo Tano né Lucrezia Lando hanno confermato o smentito queste voci riguardo alla loro relazione. I fan rimangono in attesa di ulteriori dichiarazioni o conferme da parte dei due interessati. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa situazione e vi terremo aggiornati su qualsiasi nuova informazione. Grazie per averci seguito. E a presto con ulteriori aggiornamenti.